Quando si tratta di installazioni di sistemi di sicurezza, è tutta una questione di efficienza operativa. Con la nuova LightSys Plus potrai finalmente gestire la tua attività in modo più veloce e intelligente, utilizzando un unico sistema di sicurezza che ti permette di realizzare installazioni di ogni tipo e dimensione. Prova ad immaginare quanto si semplificherebbe la gestione dei pezzi di ricambio. Sarei sempre pronto a fornire assistenza perché dovrai mantenere un solo magazzino per i pezzi di ricambio come tastiere, dispositivi radio o espansioni. Questo è un grande vantaggio. Inoltre, il tuo personale sarà concentrato su un solo sistema e avrà una conoscenza approfondita dello stesso, il che significa che non dovranno ricordare i dettagli di più sistemi, e ciò si traduce in installazioni più veloci e a grandi risparmi sui costi. Pensa quanto sarebbe facile formare i nuovi dipendenti nella risoluzione di problematiche e a fornire assistenza, e non ho nemmeno citato i servizi da remoto e la rapidità di un'installazione radio. La nuova LightSys Plus non è solo un grande aggiornamento dal punto di vista tecnologico, è un grande passo avanti per tutte le tue attività.